Ciao a te ragazzi, finalmente ci sono riuscito a cambiare quel cazzo di sfondo dei fiori Ci ho messo questo che è 100 volte più bello Comunque io non sono venuto qui per parlarvi dello sfondo o delle rose o fiori eccetera Sono venuto qua per dirvi che oggi ci metterò un video in cui dovete dirmi E se vi piace il video mettendo mi piace al video ovviamente Gioco di parole Comunque se non avete capito vi dico di votare il video Nel senso mettete mi piace, in base a mi piace vedrò se vi piace questo tipo di video Ma lasciate perdere l'audio e la grafica e la tastiera che si sente Voi dovete votare solo se volete vedere questo tipo di video E se vi interessa come effettivamente lui parla eccetera La grafica ci vedremo di migliorarlo perché lui non ha mai fatto un video Lui cioè questo lui sarebbe un mio amico Comunque fate quello che vi ho detto di fare Se no il saggio si incazza Ciao a tutti da Rector E allora ragazzi sono Fede Maio IFA In questo momento vi farò vedere un po' le mie capacità su Black Ops 2 Ora dobbiamo attendere che parta la partita Ha un grafico bassissimo volevo dire Fa schifo Già anche la grafica Fa veramente pena 0.46 quindi pensate voi Sono un po' di italiani qui sulla lobby Vediamo un dominio veterano Nuketown è 925 la goblet non lo so Non fa questo bonus se c'è Nuketown Forever non si sa come mai Le mie capacità vi farò vedere riguardo Proprio stupende Stupende Vada lì Vada lì Olè Let's go 50 adesso Non c'è anche il camper Guarda lì Olè Sono secco Non proprio C'è davvero Dato Dato E cazzo Abbiamo lo stesso nome Cazzo Chi dice questo Perchè stesso nome? Scusatemi un attimo Vada lì X Chi dice lo stesso nome? Eh vabbè nvidia X pack X pack X pack Ti levi dalle palle? Grazie Dio quanti L'armata L'armata No No è quello che aveva X pack Quello di X The killer Necce Guarda quanto vi vede Oddio l'altro vattro Mi rischio Dicami 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 Cazzo E' libero Secondo ragazzi Secondo Ma non basta E Allora Cerro Questa mappa Qui E' su questo gioco Dopo farò send v3 E poi send v2 Mi raccomando Cazzo Mi scappano i giocatori Cazzo E' anche lì quanti Wawwaw ragazzi No Cazzo Mi era finita l'arma Cazzo 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 Luna Per il punto riesca a fare questo gioco mamma mia Eccolo Ehm Oddio Cazzo Cazzo Morto 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 Stragio La strage Catturiamo sta bandiera va Che voglio essere un più Guarda lì Guarda lì Guarda lì No 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 Beh ho chiamato gli approvigionamenti This is very good C'è No ho anche mano gli approvigionamenti perchè C'è C'è Cosci cazzo Guarda l'arbre C'è qualcuno Che Ecco me l'hanno fottuto Wow Con frattacco waw Molto utile E' chiamamo waw Va Oh le Mamma mia Andiamo a vedere come lagga Tornamente lagga un po' troppo Mamma mia ragazzi Guarda ti Spacco faccio Spacco faccio Spacco faccio Ecco Vieto Se dieci dieci vabbè ragazzi sono Non sape Da quando Ho scelto il ghost Quello di il forte Davolo sono andato a finire Non facevo neanche Le succisioni Tutti scomparsi Sì Vabbè stai Non ti si vede Vabbè stai Non ti si vede Vabbè 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 Attenzione Mamma mia Quanti Mamma mia Mamma mia Guarda lì I pro Scusi una mente La fai Miss Lester Ma ragazzi Miss Lester Mamma mia Mi fai il culo Mi fai il culo Mi fai il culo Mi fai il culo Mi hai chiesto Schifo C'è Siamo anche un beloterano Vabbè Dai su Mamma mia Chi è che l'ha fatto queste uccisioni Mamma mia Il pro Mia macchina mortale No Non l'ho finito Proprio Mi ha fastidio Cioè Chi la creava Dio Dio Vedi No No L'ho chiusso L'ho chiuso Posso spiare la macchina mortale alla fantuna Allalala Robot Ma Un nemico Ottimo lavoro 28 11 Ma Ma Volevano Dove Dove? Dove? Dissimi dove? Dove lo ho trovato? No, non ho la macchina mortale La macchina mortale è pronta al busto Pam! Sbagliato Lo preme Quando finisce? No, no Decisione confermata Eccolo, l'avevo visto Maia Ho un avversario Oh, cazzo 31-17 ragazzi Questa è la prima partita in cui Poi una partita mai vista Non esiste Adesso basta Basta morire Sì, però ragazzi Che cazzo, minchia Capito? E... Vediamo Ho avvi, ok Ok Porca caccia puttana Boccatto FMJ ragazzi Maiana Mattilevita Ok, non l'ho ucciso Non l'ho ucciso Io Quindi sono morto Il mio primo video ragazzi Volevo lì Volevo Azzote Ho visto C'era qualche uno Lì mori Pensavo Ma l'avessi succedendo L'uccidessi Però invece Non era così Ragazzi Il camper Bastardo Vabbè Non sono sempre in positivo Ragazzi Non l'ho ucciso Ma io dico così Non si può chiedere Si vuole Ma c'è di me Aspetta Aspetta Camperiamo Camperiamo Cazzo Quale? Wav Ma cosa mi faccio Spogliere la testa Questi Sì Quanti ma non Ma chi mi becca Ma guarda lì Che pro Ma che pro 41 25 Cioè 25 ragazzi Ci manca Visto morire Visto morire Ecco Ecco Mamma mia I peggio camper Peggio posti camper Mamma mia Fanno pena Sti schifo Mamma mia Pezzi di merda Andiamo a cazzo Eee Ora vengono loro Nello spawn Faccio io il culo Poi Vediamo Alleluia Promosso Sia Oddio Chi è che ha chiamato Lì da K9 Chi è quel ferocio Chi è quel ferocio Mamma cazzo Eh deve essere Bele superate In uccisione Tutte le battiere Conquistate Le stagioni Top le carte Mi Tutto 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 Ma non Nob Tutto 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 Mai fatto Questa è la Ma The best Best Part Dio Ah dai le luce Mi sta rando Lo Io 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 Ma fallo fuori Però Cazzo Amma mia Ma fai pena Cioè faccio pena Non so neanche Vado questo video Quanto Quanto posto Prenderà Nel mio Non più Per Quindi Non Adesso si recupera Sì dai No Che giro L'ho fatto sanguinario Ah Provisionamento Addirittura Mamma mia Oh Stiamo rando 50 uccisioni Chi se lo aspettavo No Andai veloce 16 Secondi Cos'è Che cos'è I RCDX Non lo faccio Ultima Kill Ultima 8 7 6 Madfuckabash Mamma mia Oh Il primo Oddio Vabbè Sto 60 Nonostante Due Mie Arati Arati Non ce n'è uno in positivo Non ce n'è uno in positivo Di loro Ragazzi Arare Bello Ci piace Arati Arati Con La razza No mamma mia In questo Dove essere Aumentato il razza Due sanguinari Ma fammi due Scusate Da qui ci vuole Un momento Ma Come Cazzo Vabbè Nulla ragazzi In questo Ho fatto vedere La mia Potenza Al massimo E la prima volta Faccio Un prezioso alto Ve lo giuro Su più Ragazzi Ve lo giuro 50 uccisioni Non ci sono mai arrivato Non so cosa stia succedendo Forse Quando è uscito Ghost Di foto Se mi sono andati via O se no Nulla Cioè Già Sono sempre Lì più o meno Sono 14 16 C'era Non primo Se Boh Non sape Quando siano andati Non è poi meglio così Almeno Mi hanno interrato Faccio Faccio più uccisioni Guarda lì Faccio vedere Se hai due punti Quanti mi hanno chiamati Per l'ho 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 Tre volte Cioè L'ho De start Vediamoci Mamma mia Vabbè Bella ragazzi Ci vediamo Al prossimo Video Bella